Qui all'EQF di Gorla, anche Matilde Campello, la ricordiamo tutti, lei è figlia del colonnello Ranieri di Campello e di Marina Ciocchetti. Cosa fai qui al nord? Mi sono trasferita da poco, sono passata da Roma a Somma Lombardo, monto alla Capinera, a Casorate, è stato molto difficile, è un passaggio molto difficile della mia vita, però anche questo si fa e devo dire che sono molto contenta dal punto di vista che qui abbiamo molti più luoghi dove fare le gare, è tutto molto più comodo anche per andare all'estero, mentre stare a Roma è tutto un po' più lontano e quindi sono molto contenta. Cosa hai lasciato a Roma? Eh, ho lasciato tutta la mia infanzia, la mia adolescenza, però anche questo si sta bene. Monti alla Capinera, non ti seguono, non ti segue Angelo con Cristofaletti e soprattutto tua mamma. Sì, mia mamma è sempre accanto a me, ovunque, è una super trainer. Tu sei completista, nasci completista, sei qui oggi a saltare nel salto ostacoli. Cosa serve a una completista questo esercizio? È molto importante perfezionare il tutto, in completo bisogna andare alla perfezione, cercare di andare alla perfezione in qualsiasi disciplina, quindi in dressage, andare bene, in cross e in concorso. È molto importante sapere comunque saltare, avere l'esperienza, più esperienza si fa e meglio è. Quello che mi dicono sempre i miei genitori. Anche nel completo una barriera costa tanti posti? Costa tanto, sì, molto. Anche in dressage ormai è un punto, è tantissimo, è fondamentale, come il tempo in cross. Peccato perché oggi c'era a Montelibretti una bellissima gara, hai saltato quella? Sì, ho saltato quella ma partirò da Ravenna tra due settimane e Montelibretti è un posto molto bello che abbiamo. Che cavalli stai montando adesso? Ho due cavalle, una olandese e una sarda italiana. Principalmente monto la cavalla olandese con cui ho fatto anche gli europei, sia nel 2014 che nel 2015. È una cavalla olandese da Polidox e Calvino Z. È una cavalla di nove anni e mi ci trovo molto bene, sono molto contenta. Cavalla insanguata, voi completisti amate questi cavalli? Sì, sì, abbastanza. È una cavalla che anche in partenza del cross soprattutto si fa sentire. Infatti meno male c'è sempre papà che me la tiene. Come sta andando questo concorso per te? Bene, molto bene. Sono qui più che altro per fare degli esercizi, appunto esperienza e è molto importante. Bene, grazie Matilde. Ci vedremo, ci troveremo spesso. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie a tutti.